Terzo film da regista del cantante e musicista Luciano Ligabue è Made in Italy, film ispirato dall'omonimo concept album uscito nel novembre del 2016 con Stefano Accorsi e Kasia Smutniak, è in programmazione al cinematografo Sant'Angelo di Perugia fino al 31 gennaio 2018 con due spettacoli giornalieri alle 18.30 e 21.15. La domenica andrà anche alle 16.15 in occasione della giornata della memoria solo sabato 27 gennaio alle 16.15 andrà un sacchetto di biglie, la storia di due ebrei che bambini vivono nella Francia occupata dai nazisti, non dovranno mai ammettere per nessun motivo di essere ebrei. Per informazioni sulle trame o radio programmazione degli altri film visitate il sito internet cinegatti.it Ecco, eravamo partiti. Ehi, stai attento! Sia, aprite! Fermi tutti! Finché c'è speranza non ci arrendiamo. Se continui a batterti, a tenere la vita stretta in pugno così te la caverai.